Musica Cari telespettatori eccoci insieme, ben arrivati qui con noi. Questa serata si apre su un tema estremamente importante, caldo, dove sono terminate le elezioni europee, quindi parleremo appunto di Europa, quale Europa si prospetta per il futuro, quali equilibri anche in Italia. Insomma ci sono diverse questioni, molti ospiti presenti qui con noi. Intanto vi lascio lo spazio con lo SPICGL, sempre l'anteprima per parlare invece di questioni fiscali, ma questo è il momento opportuno per farlo, quindi grande attenzione. Poi avremo un approfondimento con l'avvocato professore Marrella di diritto internazionale, ci parlerà d'Europa e poi i nostri esperti naturalmente e politici in studio. Quindi una bella serata, restate qui con noi.